Gli uomini della Guardia di Finanza di Torino con la collaborazione dei colleghi di Novale di Borgomanero hanno posto sotto sequestro questa mattina il tratto di galleria che sottopassa la via Lazzaretto. Siamo sulla variante nuova di Borgoticino, ovviamente non ancora aperta al traffico. La galleria sottopassa via Lazzaretto che è la strada che collega Borgoticino con Varallo Pombia, una strada trafficata tanto che per evitare il blocco è stata costruita questa mini variante. Il motivo? Si sono verificate delle crepe vistose con infiltrazioni d'acqua, questo subito dopo il passaggio degli automezzi sulla via Lazzaretto. Una dozzina di uomini della Guardia di Finanza, anche con personale dell'Asla, hanno posto i sigilli per poter avviare le indagini e cercare di capire come mai, prima ancora di essere inaugurata, questa galleria ha manifestato questi grossi cedimenti. È una strada che serve moltissimo, porterà fuori il traffico dalla zona centrale di Borgoticino. Borgoticino che nel passato, negli anni Sessanta, aveva fatto costruire la prima circonvalazione che ormai non è più sufficiente, dato la mole di traffico che transita sulla statale 32 ticinese Arona-Novara.